Cari lettori e cari lettrici, buongiorno! Oggi sono qui per invitarvi a un evento importante che si terrà venerdì 18 marzo alle ore 12 nel Palazzo della Gran Guardia. Il tema sarà l'agroalimentare e la sostenibilità. Proseguono infatti gli incontri organizzati da Verona Expo in collaborazione con Pantheon su alcuni temi specifici che interessano ovviamente tutti noi. Dopo l'incontro del 19 febbraio sulla sicurezza che si è tenuto proprio qui nella nostra sede affrontiamo appunto venerdì il tema dell'agroalimentare a sei mesi esatti dalla fine di Expo 2015 e a pochi giorni dall'inizio del cinquantesimo Vinitaly. Saranno presenti i vertici di Verona Fiere, di Verona Mercato, alcuni rappresentanti del settore turistico veronese, enogastronomico, molte cantine, molte aziende agroalimentari proprio per cercare di capire quanto e come questo settore sia di fondamentale importanza sia per il presente che per il futuro della nostra città. Questo tema sarà anche caratterizzante del primo piano del giornale che uscirà in aprile. Tutte le informazioni riguardanti l'evento sono disponibili sul sito www.verona-pantheon.com Non mi resta altro che salutarvi e vi aspetto ovviamente venerdì 18 alle ore 12 in Gran Guardia. L'ingresso è gratuito.